Buongiorno a tutti. Capitava spesso di incontrare Mariolino Corso, non soltanto come si potrebbe pensare negli studi televisivi, ma per diversi anni abbiamo frequentato lo stesso ristorante in zona via Marghera, un ristorante spesso il Novecento di Milano frequentato anche dagli sportivi, dai tifosi dopo le partite, ma insomma quotidianamente meta di famiglia, di persone di una bella Milano e naturalmente fra le persone della bella Milano calzava a pennello la figura di Mariolino Corso. Devo dire che il più delle volte appena mi vedeva mi veniva incontro, ma allora l'ha finita di fare casino in studio o no? E lo diceva bonariamente, lo diceva con quell'aria insomma da senatore di Milano, perché ho sempre pensato che certi esponenti del derby milanese degli anni Sessanta mi vengono sempre in mente non tanto Rivera e Mazzola onestamente. Quando penso al derby di Milano degli anni Sessanta, che è stato un derby che da ragazzino appena ho iniziato a capire, naturalmente fra virgolette di calcio, avevo il rimpianto di non aver seguito, erano Corso e Facchetti per l'Inter e Cesare Maldini e Lodetti per il Milano. Ecco, questi sono gli esponenti, così nella mia fantasia, più alti di un derby irripetibile, del derby di una Milano locomotiva d'Italia, della Milano degli anni ruggenti, di un'Italia della ricostruzione e non solo, ma della corsa verso il proprio rinnovamento, insomma una Milano in bianco e nero, a volte vinceva il Milan, a volte vinceva l'Inter, ma erano sempre sfide di altissimo livello giocate da grandissimi campioni e Milano e Inter erano l'ossatura della nazionale italiana di calcio. L'ultima volta che ho visto Mario Lino però era l'estate del 2018 ed era quel periodo in cui, ricorderete, il Milan era in una certa difficoltà perché erano gli ultimi giorni della proprietà cinese di Yongong Li, c'erano tante voci sul Milan, cosa succede, cosa non succede, erano proprietà, l'iscrizione al campionato eccetera e quel giorno, alla fine di quel pranzo, Mario Lino Corso mi prese il braccio e voleva sapere, era preoccupato come va, era preoccupato perché certi grandi sportivi, certe grandi figure ci tengono a loro derby, è importante avere un avversario, io non sono mai d'accordo con l'annientamento dell'avversario, l'avversario è fondamentale perché senza la gioia o il dolore che ti dà vincere o perdere contro un avversario importante poi si perde la passione per il calcio e senza la passione per il calcio la vita diventa, insomma, diversa, non so se migliore o peggiore ma sicuramente diversa. La notizia di oggi della scomparsa di Mario Lino Corso è stata un colpo basso, mi è spiaciuto tantissimo, ho spesso visto e rivisto le immagini di Mario Lino Corso nei derby degli anni sessanta sapeva essere inesorabile, ricordo la gioia con la quale riuscimmo a vincere un derby nel 71-72, 3-2 in casa dell'Inter con un gol di De Retano, di Albertino Bigon nel finale e la gioia derivava dal fatto proprio che nell'Inter c'erano grandissimi avversari fra cui Mario Lino Corso che era un giocatore di poesia, di tocco, di talento, insomma ho letto oggi, ho letto questa mattina un tributo a lui dedicato in cui si scriveva che il calcio di Mario Lino Corso era un'idea di libertà, ecco sì è vero, è vero ed è sempre stato al di fuori da certi schemi e da certe consuetudine anche nella vita al di fuori del calcio Mario Lino Corso, per cui lo ricordo con grande piacere, ho dei bei ricordi di Mario Lino Corso personalmente, si arrabbiò con me soltanto una volta quando dopo l'ultimo scudetto che vincemmo nel 2011 andai in studio con la patch dello scudetto sul petto, però era così, la reazione dell'avversario, sono cose belle, fra sportivi, sono cose che nulla aggiungono e nulla tolgono, però un bel ricordo di Mario Lino Corso mi è dispiaciuto tantissimo essere trafitto dalla notizia della sua scomparsa. Detto questo veniamo a noi, veniamo al Milan, ho notato sui giornali grande spazio, grande enfasi al fatto che Ivan Gazzidis, il nostro amministratore delegato, avesse seguito l'allenamento del venerdì insieme a Paolo Maldini e a Richie Massara a Milanello, ma secondo me non è nemmeno questa la notizia, la notizia è che Gazzidis farà tutta la trasferta con la squadra, quindi sia la domenica sera che il giorno della partita lunedì Lecce-Milano, perché dovete sapere, i giocatori a queste cose tengono molto, i giocatori tengono molto al fatto che l'alta dirigenza sia con loro la sera prima della partita in trasferta, ci tengono molto, questo l'ho capito e imparato negli anni, per cui che questo accada in occasione di questo Lecce-Milan, poi sai, vinci pareggi o perdi con i dirigenti, vinci pareggi o perdi senza i dirigenti, non è questo il punto, però al di là delle coincidenze dei risultati, al di là dell'andirivieni dei risultati, un feeling, una compattezza, e batto sempre moltissimo, lo sapete sul tasto della compattezza, si costruisce con questo tipo di trasferte, con questo tipo di condivisione, e quindi bene, una cosa importante, poi ripeto, nulla è garanzia di risultato finale delle partite, però per iniziare a costruire qualcosa di compatto, di stabile, di identificato, di identificabile nel Milan di oggi, per il Milan di domani, queste sono le prime pietruzze da mettere nella costruzione, e quindi bene, e quindi naturalmente ci apprestiamo a seguire questa partita di Lecce che è fondamentale, domani Milan TV sarà in diretta da Milanello, seguiteci sul Club Channel Rosso Nero perché faremo le domande del preparito di Lecce-Milan a Stefano Pioli, il nostro allenatore, la conferenza stampa è fissata alle 14, c'era qualche tifoso o qualcuno di voi che me lo chiedeva, domani alle 14, quindi un minuto prima, due minuti prima saremo live su Milan TV e vedrete insomma la conferenza stampa della vigilia di Stefano Pioli e poi naturalmente avremo il pre e post partita lunedì, ricordo che iniziamo su Milan TV alle 18.30, Lecce-Milan parte alle 19.30, poi rifaremo insieme il punto della situazione da Milanello nella giornata di domani, subito dopo la conferenza stampa di Stefano Pioli. Ciao a tutti e buon weekend.